Anita Blake, Noto di Sangue, capitolo 32 D'altra parte, avevo bisogno di tutto l'aiuto che potevo ottenere, forse mi sarebbe stata persino concessa una rivelazione e tutti i frammenti si sarebbero composti in un'immagine chiara e coerente. Mi era già successo in precedenza. L'aiuto divino non è qualcosa a cui mi affido di solito, però ogni tanto in chiesa riesco a riflettere meglio. Quando il mondo è infestato di vampiri e di esseri malvagi e un colificifisso benedetto può essere tutto ciò che separa una persona dalla morte, allora la chiesa appare tutta una luce diversa, per così dire. Mentre si sciavo verso il bordo del letto, gemendo, il telefono squillò. Mi alzai a sedere in attesa che la segreteria telefonica intervenisse, e così fu. Adetta, sono l'esergente Star. È stato assassinato un altro vampiro. Solleva il ricevitore. Gian Adolf. Bene, sono contento che tu non sia già uscito per andare in chiesa. Hai detto che è stato allaminato un altro vampiro? Come nei casi precedenti? A quanto pare. Ho bisogno che tu venga a vedere. Certo, quando? Subito. Sospirai. Addio chiesa. La polizia non poteva certo lasciare il cadavere sulla scena del crimine fino a metodogiorno, o anche più tardi, soltanto per i miei bei occhi. Dammi l'indirizzo. Aspetta, lasciami trovare una penna che scrive. Tenevo sempre un taccuino sul comodino, ma la penna si era scaricata senza che a me ne accorgessi. Ok, spara. Adolf mi diede l'indirizzo di un luogo che si trovava a non più di un isolato del circolo dei tannati. E ho il margine del distretto. Mi sono uno degli amicidi precedenti e sto commesso tanto lontano da Reva in front. È vero, conferma Adolf. Cosa c'è di diverso stavolta? Lo vedrai quando sarai qui. Benissimo, arriverò fra mezz'ora. Ci vediamo. E riappese. Beh, buongiorno a te, Adolf, disse il ricevedere. Forse neanche lui era mattiniero. Le ferite alle mie mani stavano rimarginando rapidamente. Così non mi preoccupai di sostituire i cerotti intresi di sangue di capra che avevo tolto la notte precedente. Una grossa benda proteggeva il taglio al braccio sinistro. Lui non poteva più permettermi di essermi ferita. Perché non c'era più spazio. Sul collo intorno al morso si stava formando un livido che sembrava il succhiotto più grosso del mondo. Se Sebrowski lo avesse visto non me l'avrebbe lasciata passare liscia. Così lo coprì con un cerotto. E sembrò che volessi nascondere un morso di vampiro. Che si schiattano pure. Non è a far loro. Indostrò una polo rossa infilata nei jeans. Le menai che la pistola del kit a scellare con doppio portacaricatore, cioè 26 pallottole in verità, Le sparatorie nella maggia parte dei casi si risolvono prima di eseguire tutti gli otto colpi di un caricatore. D'altronde c'è sempre una prima volta. Presi anche uno sgargiante giubbotto giallo in pelle scamosciata che avrei indossato soltanto se la pistola avesse nervosito la gente. In ogni modo collaboravo con i poliziotti e se loro non nascondevano le armi perché avevo dovuto farlo io? E poi ero stanca di giocare che quei bastardi là fuori sapessero che l'armata è pronta a difendermi. A differenza di quanto vi ho detto in precedenza, stavolta invece il capitolo si ferma qua per la prima parte. Perché è diviso in due parti in questo caso, quindi poi caricherò la parte la sera stessa rispetto a quando sto caricando la prima.